Greta Rossetti risponde alle domande dei fan e su Temptation Island rivela Mi è piaciuto il percorso di Raul Ecco le risposte. Greta Rossetti si sta concentrando sui nuovi progetti che da settembre la vedranno protagonista La Rossetti infatti ha già anticipato l'uscita del suo primo brand di make-up ma non sarà l'unico progetto professionale che la terrà impegnata nei prossimi mesi L'ex GFina questa estate si sta godendo l'amore con Sergio Dottavi tra una meta e l'altra L'amore tra i due è sbocciato durante l'ultima edizione del Grande Fratello, e nonostante qualche piccolo screzio, Greta e Sergio sono tornati super affiatati Le risposte alle domande dei fan, Greta nelle ultime ore, si è divertita a rispondere alle domande dei fan in viaggio, in attesa di raggiungere una nuova meta Un fan chiede all'ex GFina. Per quale coppia di Temptation Island hai tifato? L'ex GFina ha risposto. Sono sincera non l'ho guardato moltissimo, però ovviamente con il successo che ha avuto o i social intasati di ti I, e quindi qualcosa ho letto. Mi è piaciuto molto il percorso di Raul quando si dice l'apparenza inganna sembrava una persona irascibile poi in realtà si è scoperto un cuore di panna Un utente infine chiede. Che rapporti hai con le persone del GF? La Rossetti confessa. Posso essere sincera? Li sento davvero poco, a causa dei molti impegni di tutti Tuttavia, voglio bene a tutti, senza eccezioni, soprattutto a quelli con cui ho legato Tendenzialmente, faccio fatica ad affezionarmi alle persone, se condivido mesi con loro soprattutto, poi non smetto di volergli bene